Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini, vediamo se anche oggi Stefania ha preparato una canzoncina per voi. Ciao Mario e ciao a tutti, buona domenica! Oggi sono qui con il gorilla Sergio. Ciao a tutti, ciao buona domenica! Oggi Sergio ci ha preparato un'altra delle sue canzoncine, vero Sergio? Eh sì, oggi c'è una canzoncina davvero davvero per un bravo cantante con lei. Davvero, benissimo. Come si chiama questa canzoncina? Si chiama Una rana, due rane. Ah, va bene, ascoltiamola. Una rana, due rane. Volevano entrare in una scatolina. Cici, ua, 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 cicci. E adesso la cantiamo ad alta voce. Una rana, due rane. Volevano entrare in una scatolina. Cici, ua, 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 cicci. E adesso la cantiamo ad alta voce. Una rana, due rane. Volevano entrare in una scatolina. Cici, ua, 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 cicci. E adesso la cantiamo ad alta voce. Sono con una rana, chiuse. Ua, 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 ua. Ua, 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 ua. Bravo! Grazie, è di suona difficile. È vero, l'hai cantato in tutte le maniere. Vedremo cosa ne pensa anche Mario. Sì, certo, da settimana vorere. Benissimo, questa era una rana, due rana. due rane cantate dal gorilla Sergio. Sì, ciao a tutti i bimbi! Buona domenica! Al prossimo video! Ciao bimbi! Ma che bello! Grazie! Ciao Stefania! Ciao Sergio! E buona domenica a tutti voi! Ci vediamo domenica prossima!